Anche perché Lukaku è molto nervoso, intanto guardate la faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic e io credo che però sia battito tutto da una provocazione di Ibra nei confronti di Lukaku che non si amino, lo sappiamo, e Alessandro è raro vedere Lukaku inferocito così, nervoso anche da una mancatura perfetta di Romagnoli che ha rischiato anche già